L'ondata di freddo, proveniente dall'est Europa, non ha risparmiato il Cilento, gli Alburni e il Vallo di Viano. Nevicate anche a bassa quota hanno interessato tutti i comuni del comprensorio e se per alcuni abitanti delle zone costiere il raro evento ha rappresentato l'occasione ideale per uscire all'aperto ed ammirare la prima nevicata dell'anno, per gli abitanti delle aree interne i disagi che la neve porta con sé non sono mancati. Molti comuni della Valle del Calore sono stati costretti a predisporre il rinvio dell'apertura delle scuole previste per il 9 gennaio a causa delle condutture idriche e degli impianti di riscaldamento non funzionanti per il grande gelo. Addirittura a meno 6 gradi le temperature minime registrate a Roccadaspide, Piaggine e Roscigno. Centinaia le famiglie disagiate da tali condizioni climatiche. Serbatoi lesionati, rubinetti a secco per giorni, caldaie distrutte per il ghiaccio formatosi all'interno. Unica consolazione per gli abitanti delle aree interne, la bellezza dei loro meravigliosi borghi innevati.